Io porca misera, sta cannabis non l'ho mai provata, la devo provare, boh, non lo so, lui racconta questa cosa, cioè propone questa cosa, ma forse, tanto ormai, io davanti a casa mia a Bologna c'è un grandissimo allevamento di, allevamento si dice, no, di canapa, coltivazione, scusa. Allora, arrivo verso canapa e comincio a sentire un profumo, ma dico, dicevo a mia moglie, ma cos'è sta roba? Ma dice, non vedi che hanno messo la canapa qui? Si vede che adesso è tutto, non lo so, la usano anche per medicina, no? Però non so rispondere a questa cosa qua, se lui dice questo, forse, intanto, chi la vuole usare la usa qui e non è che c'è bisogno, tanto, si trova facilmente, hanno detto, io ce l'ho davanti a casa.